al via la quinta edizione di cantate inni con arte entro il prossimo 2 ottobre ogni coro parrocchiale della diocesi di roma e di quelle suburbicarie potrà presentare un brano liturgico edito cioè della consolidata tradizione liturgica o inedito scritto e musicato laddove previsto direttamente dal coro in lingua italiana o latina e concepito esplicitamente per la celebrazione eucaristica dovrà avere la durata massima di 5 minuti una volta registrato in formato mp3 il brano dovrà essere inviato all'indirizzo email concorsi radio più chiocciola gmail.com insieme a una scheda di iscrizione da compilare e firmare in ogni sua parte da scaricare dal sito www.radiopiù.eu due foto del coro di cui almeno una in formato orizzontale a giudicare i brani una giuria d'eccezione presieduta anche quest'anno da monsignor marco frisina tre i vincitori due uno per ogni sezione editi o inediti saranno selezionati tra i 12 finalisti che il prossimo 5 novembre si esibiranno alla chiesa di santa maria in vallicella a questi si aggiungerà il coro più votato sulle piattaforme online di radio più roma che avrà la possibilità di esibirsi durante la serata finale ma fuori concorso in palio buoni fino a 250 euro per l'acquisto di prodotti musicali tutte le informazioni utili su come partecipare al concorso su www.radiopiù.eu